Quindi, come si dice, veniamo dal morto. Cioè, lui che è stato in quei tempi, uno Presidente della Regione, comunque ha avuto in mano questa vicenda, ci dice che siamo stati degli sciocchi. Perché a un certo punto abbiamo capito che c'era un costo, perché l'acqua l'avevamo a tinkite, no? A te capigliatilla. Quindi avevamo tanta acqua. Ma poi dico, ma se li abbiamo fatti, come possiamo dire, abbiamo l'acqua delle tubature e li spegniamo? Abbiamo speso 16, ieri abbiamo fatto il conto, costa 16 milioni, costava, ora non lo so, parliamo del 2010-2011, costava 16 milioni di euro per fare un impianto capace di rifornire 100.000 persone 24 ore su 24, no? Siccome poi non consumano 24 su 24, vuol dire 200.000 persone a metà giornata. Però c'è il problema del consumo dell'energia, perché i dissalatori consumano molta energia. E poi hanno un altro piccolo problema che sono le scorie, cioè resta molto sale, perché ci leviamo il sale dall'acqua, no? Quindi sono delle reti che sono finissime, ora io la faccio semplice semplice, per cui l'acqua viene sparata, il sale resta in questi filtri strettissimi e poi questo sale si deve in qualche modo liberare. Magari si può andare al centro dell'oceano e lo scarichi. Però quanto costa? Se lo scarichi al centro del Mediterraneo è più facile. Allora noi potremmo fare, come ha detto Lombardo, che è sempre stato favorevole a questa tesi, potremmo obbligare a fare gli impianti solari in zone meno belle, come potrebbe essere dove si può coltivare la roba, ma si fa dove non si può coltivare, e che poi questi impianti possono servire ad alimentare gli impianti che fanno i dissalatori. Sarebbe un circolo utile, un circolo direi perfetto, no? Virtuoso. Eh vabbè, ma ce la facciamo? Non ce la facciamo, perché abbiamo dimostrato che l'ignavia dei nostri dirigenti e funzionari regionali e qualche volta anche locali, l'interesse economico, perché noi abbiamo l'interesse a fare i progetti e a costruire, poi gestire non ce ne frega niente, perché già si buttano i soldi e basta. Quindi siamo stati molto disattenti. Ora, abbiamo preso la nave, con una nave portiamo l'acqua da Pozzallo a Licata. Allora, sapete cosa è successo? Questa forse è proprio la nave della Marina. Abbiamo scoperto che... Mi fa ridere. Abbiamo scoperto che prendere l'acqua, andarla a prendere al porto di Pozzallo, farla arrivare al porto, caricarla sulla nave, portarla al porto di Licata, farla scaricare, viaggia, andate e ritorno, compagnia bella, sapete cosa succede? Che costa 43 euro a metro cubo. Cioè, noi l'acqua che prendiamo con un autobotte, paghiamo 100 euro 15 metri cubi, quindi siamo molto più bassi, diciamo. E quindi qua è costosissima. Allora, alla regione hanno detto dobbiamo trovare una soluzione diversa. Abbiamo calcolato i costi solo dopo aver effettuato il primo d'asporto. In base al tempo impiegato, carica e scarico, registro di ritorno, viaggio, costa circa 50.000 euro per una spesa pari a 43 euro a metro cubo. Non conviene, non conviene, non conviene. Va bene? Che fai? 1200 metri cubi? Quanto lo consumi? 1200 metri cubi? Le solite soluzioni che poi uno le dice, ma a portarle a termine. Va bene. Vi ricordo quello che ho detto ieri. La strategia per combattere la siccità si fa quando c'è l'acqua, non quando non c'è. Oggi dobbiamo solo mettere tamponi per fare progetti. Ora, per esempio, oggi c'è stato un incontro in prefettura per la diga Ragoleto. In qualche modo si è sbloccata qualcosa. Anche quella è una diga ferma da anni che non riusciamo a fare funzionare come si deve vicino all'Ippari. e sarebbe un'ottima cosa. Ora, un po' comunque, con carta a Berlotti il commissario è stato fatto. Cambiamo argomento, ma restiamo un attimo a Lombardo. Perché Lombardo è stato il primo commissario, anzi il primo commissariatore, il primo che ha commissialeato tutto. Perché lui è incominciato con le province, con le camere di commercio, con le ASI, con tutto. Lui è stato uno che ha voluto commissarare tutto con delle finalità che naturalmente non vi sto qui a spiegare, ma qualcuno lo ha sempre pensato. E quindi commissario alla provincia, commissario alla camera di commercio, commissariate alle ASI. È chiaro che certe realtà sono in mano ai commissari. Chi ha i commissari governa. La stessa cosa sta accadendo ora alla regione siciliana, perché in mano i commissari ce li ha Schifani. Prima li aveva Lombardo quando era presidente, ora ce li ha Schifani. Io chiedo a gran voce e chiedo ai sindaci di Ragusa, Siracusa e Catania, ma ai sindaci di Ragusa di chiedere a gran voce che si possa andare alla normalizzazione della super camera di commercio, la camera di commercio del sud-est, Ragusa, Siracusa, in modo che normalizzandola con i consiglieri che possono eleggere la giunta camerale, che possono andare a eleggere i rappresentanti anche all'aeroporto di Catania, perché tutto il gioco sta lì. Guardate che l'aeroporto di Catania è stata la rovina di tanti presidenti della regione e di tante realtà, perché non so cosa c'è in quell'aeroporto, siccome i soldi sono a Carruglia, dicono loro, è un banco matto e ci sono tanti posti di lavoro che possono... E queste cose ci piacciono. No, ci piacciono a tutti. Quindi questa chiediamo a gran voce che venga normalizzata la camera di commercio. Il commissario Belcuore deve procedere a nominare i vari esponenti delle varie categorie e andare a fare la camera di commercio. Sono passati troppi anni per non averla e siccome non abbiamo altri enti sovracomunali, la camera di commercio serve. Si parla anche delle province. Ieri nella famosa mini-manovra della regione si è parlato anche della camera di commercio, delle province. E si è tornato a dire che probabilmente l'anno prossimo si andrà a votare, perché questo problema delle province è sentito anche a livello regionale. va bene. Ce ne andiamo a parlare della festa di San Giorgio, Lapsus Freudiano, della festa di San Giovanni. Perché volevo dire la questione con San Giorgio. Non confondiamo capre e cavoli, ma parlando di santi non possiamo usare questo termine, non confondiamo i santi. Perché su questa questione ci sono stati preti che sono stati spostati, scontri a livello episcopale e a livello romano. Insomma ce ne è state di tutti i colori. Allora io non so se la regia può zoomare sotto San Giovanni Battista. L'aguse c'è scritto patrono principale della diocesi e della città di Ragusa. Che vuol dire? Che tutta quella battaglia che giustamente hanno fatto gli amici di Ibla che sono usciti a ottenere che San Giorgio è patrono con la stessa dignità della città di Ragusa. A Ragusa superiore non gliene frega niente. Insomma è così, non gliene frega niente, gliene frega proprio poco poco poco. E allora il concetto qual è? Che per la festa di San Giovanni ora come è successo per Ibla c'è un grande impegno. Lo dimostra anche, guardate, questo librettino. Io vedo c'è pubblicità a catafottere come si suol dire. O il vostro raggente pubblicitario è uno eccezionale per chi ha trovato, o i costi sono minimi, si parla di poche decine di euro, ma non credo che sia così. Insomma vuol dire che c'è una città che è disponibile per fare un discorso per San Giovanni. Oggi c'è stata la conferenza stampa. Come dicevamo, noi abbiamo mandato il nostro Gianni Papa. Vediamo questo ampio servizio. Vediamo.